Ve l'avevo promesso ed eccoci qui. Finalmente vi porto la guida completa all'applicazione di Dream E per quanto riguarda il Dream E X40 Ultra. Fate riferimento a questo video come in realtà un tutorial sull'applicazione Dream E perché poi è la stessa e ovvio che poi vanno a cambiare magari alcune voci all'interno a seconda del dispositivo che andrete a scegliere. Ovviamente il Dream E L20 Ultra avrà delle funzioni in meno rispetto all'X40 Ultra che è il top di gamma 2024 così come magari il top di gamma del 2025 avrà delle funzioni in più rispetto all'X40 Ultra. In generale però l'interfaccia rimane la medesima e possiamo andare a capire come impostare e se soprattutto fa al caso nostro. Prima di continuare e passare sulla scrivania vi ricordo solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, attivate la campanellina delle notifiche in quanto è davvero l'unico modo che avete per supportare il mio lavoro. Il link del robot lo trovate qui sotto nella descrizione. Iniziamo subito. Applicazione Dream E Home. Ovviamente è disponibile sia per dispositivi Android sia per dispositivi iOS quindi la trovate sia su Play Store che su Apple Store. Questa è l'interfaccia principale. Come potete vedere qui abbiamo il pulsante per far partire la pulizia, qui c'è il pulsante per mandare i robot a casa, qui abbiamo il pulsante per accedere a quella che è la suite dedicata alla videosorveglianza. Vedete io adesso sono qui, questa è la videocamera del robot che mi sta riprendendo. Vediamo subito come si usa questa interfaccia perché qui sotto c'è il joystick per navigare il robot. Quindi se partiamo con una ispezione diciamo manuale possiamo utilizzare questi pulsanti per far girare il robot e comandarlo. Questo qui è il pulsante per mandare il robot alla stazione di ricarica. Questo qui invece è il pulsante che permette di riconoscere i nostri animali domestici e mandarci una foto quando li vede. Qui abbiamo la possibilità di scattare una foto, di registrare un video oppure di attivare l'audio a due vie. Adesso lo disattivo perché altrimenti si crea l'eco però il mio cellulare registra la mia voce e la manda al robot. In questo modo io posso fare effettivamente delle chiamate. Adesso però usciamo da questa modalità e ritorniamo alla schermata principale. Qui abbiamo tutte le impostazioni e le possibilità per condividere il dispositivo con un'altra persona. Io per esempio ho condiviso il DIRMI con la mia compagna. Per condividere il dispositivo è necessario che l'altra persona prima scarichi l'applicazione e dopodiché crei un account. Dopodiché si può inserire la mail e effettuare la condivisione. Dopodiché qui abbiamo l'indicazione della percentuale della batteria del robot. In questo caso il 100% perché ho appena rimosso dalla base. Qui invece abbiamo l'opzione per l'assistenza DIRMI. Vi ricordo che DIRMI ha l'assistenza al 100% in Italia. Anche se in questo caso si via una chat con intelligenza artificiale. Entriamo però nella schermata principale che è sicuramente quella più interessante. Qui abbiamo i dati dell'ultima pulizia. In questo caso come potete vedere ha pulito 37 metri quadrati. Era una pulizia parziale. Ha lavorato per 90 minuti e adesso la batteria è al 100%. C'è anche un avviso che ci dice compito completato. Viene generata la mappa delle aree sporche. Per maggiori dettagli consultare la sezione cronologia della pulizia. Come potete vedere qui abbiamo tutte le pulizie effettuate con il tracciato che il robot ha effettuato per pulire. Come potete vedere qui si vede anche la sua logica di funzionamento. Quindi prima va a effettuare una pulizia lungo i bordi e dopodiché fa una spirale su e giù. Volendo si può anche impostare, lo vedremo tra un attimo, la possibilità di andare prima in un senso e poi nell'altro senso in modo da avere una maggiore efficacia. Vedete tutti questi simboli sono tutte le volte che lui ha riconosciuto un eventuale ostacolo. Qui c'è il simbolo della scarpa e come possiamo vedere lui ha scattato la foto perché ha riconosciuto tutti gli effetti delle scarpe. A mio modo di vedere è una funzione davvero molto molto utile anche perché vi permette magari di gestire poi l'ambiente in cui il robot lavora in modo da renderlo sempre più ordinato. Insomma una vera e propria guida. Qui abbiamo un ostacolo generico, in questo caso era la parte anteriore del divano. Vediamo un altro ostacolo, qui per esempio ha riconosciuto dei cavi, in realtà era il piedino del mobile della credenza. Mentre qui vedete altri cavi, a tutti gli effetti c'è un cavo che è quello di alimentazione del ventilatore. C'è addirittura una, riconosce addirittura le basi, vedete questa qua è a tutti gli effetti la base di una scopa elettrica, quindi diciamo che è davvero molto molto preciso. E abbiamo completamente tutta la mappa di tutte le volte che lui ha riconosciuto un ostacolo. A mio modo di vedere è una delle funzioni più utili se avete una videocamera frontale. Dopodiché abbiamo la funzione Clean Genius. Cosa significa Clean Genius? Lui sfrutta l'intelligenza artificiale e la videocamera e il riconoscimento, che in questo caso si chiama iAction, proprio per riconoscere gli ambienti e capire cosa deve fare. Quindi se pulire, se evitare di pulire perché l'ambiente è già pulito, oppure se pulire in maniera profonda. Vedete, io come modalità di pulizia ho messo Mocio dopo aspirazione, quindi voi potete scegliere se aspirare e lavare contemporaneamente, oppure se prima aspirare e poi lavare, come ho fatto io. E dopodiché potete abilitare anche la pulizia profonda, di modo che lui si impegni maggiormente. Altrimenti passiamo a tutte le modalità manuali col tasto Personalizza. Quindi abbiamo prima le varie modalità di pulizia, solo aspirazione, solo lavaggio, aspirazione e pulizia contemporaneamente, lavaggio dopo l'aspirazione, oppure si può addirittura personalizzare tutta la fase della pulizia. Quindi magari possiamo lavare una stanza, aspirare un'altra, aspirare e lavare un'altra ancora. Dopodiché, adesso impostiamo aspirazione e pulizia, possiamo nella tabella inferiore impostare 4 potenze di aspirazione, quindi da silenzioso fino alla massima. E dopodiché, una roba bella del dreamy, è che possiamo impostare ben 32 livelli di umidità. Allora, al mio modo di vedere, secondo me questa è una funzione fin eccessiva per quello che poi è il real utilizzo del robot. Mi sarebbero bastate magari 5-6 modalità tra cui potessi scegliere. Alla fine io imposto umido e non lo modifico più. Dopodiché, frequenza di lavaggio del mocio. Possiamo decidere di far lavare il mocio alla base dopo una determinata area, quindi da 10 metri quadrati fino a 35 metri quadrati, dopo un determinato quantitativo di tempo, quindi dopo 10 minuti di pulizia o fino a un massimo di 50 minuti di pulizia, oppure dopo la pulizia di ogni singola stanza. A seconda delle vostre case, dei vostri appartamenti, potete decidere ciò che vi è più congeniale. Dopodiché, possiamo decidere la tipologia di percorso, quindi decidere tra un percorso veloce, quindi una pulizia un po' più sprint, oppure un percorso standard, una pulizia leggermente più approfondita. Io, in questo caso, il mio suggerimento però è quello di abilitare il Clean Genius con queste impostazioni. Il robot fa tutto da solo e voi non dovete perdere tempo con l'applicazione per andare a personalizzare i parametri di pulizia. Andiamo a vedere poi gli altri pulsanti che sono qui nella parte laterale. Ovviamente ritroviamo il pulsante per abilitare la videosorveglianza, però abbiamo anche il pulsante per vedere e personalizzare la visualizzazione della mappa. Quindi in questo caso possiamo abilitare la visualizzazione 3D o la visualizzazione 2D. Vedete, nella visualizzazione 3D lui va a riconoscere anche eventuali piccoli mobili. Per esempio, qui c'è la stazione del robot, qui c'è un mobile che usiamo per appoggiare le gambe, qui c'è la cucina, mentre qui ci sono due comodini. È abbastanza precisa, onestamente, secondo me è fin superflua utilizzare questa modalità. Questo è il tasto importante perché possiamo andare a personalizzare tutta la nostra mappa. Quindi possiamo andare a rinominare le stanze, fare un backup della nostra mappa, eliminarla completamente, quindi far mappare di nuovo il mocio, oppure ristabilire la mappa, quindi fare un'ulteriore mappatura per aggiustare quella che è stata la prima mappatura o le mappature precedenti. Dopodiché abbiamo la possibilità di dividere la stanza. Per esempio, possiamo dividere il soggiorno, per cui andiamo a cliccare dividere e vedete, compare una linea che noi possiamo modificare, accorciare, allungare, spostare in modo da dividere delle stanze. Dopodiché, se vogliamo confermare, clicchiamo sull'apposito tasto, altrimenti ritorniamo indietro. Ritorniamo indietro, ovviamente, andiamo su ambiente del pavimento. In questo caso possiamo andare addirittura a impostare il materiale del pavimento. Perché? Perché in questo modo il robot andrà ad impostare le modalità di pulizia in modalità clean genius, a seconda che abbiamo un pavimento in cotto, un pavimento in piastrelle o un pavimento in parquet. Un'altra funzione davvero davvero molto utile, inoltre possiamo anche andare a impostare la presenza di tappeti, che comunque il robot riconosce in autonomia, ma ovviamente ci dà la possibilità di andare a effettuare una ulteriore personalizzazione ancora più profonda. Dopodiché abbiamo la possibilità di impostare un'area riservata, per così dire. Vedete, posso impostare una zona vietata, per cui, per esempio, se qui io metto le ciotole o le ciotole dei miei amici a quattro zampe, o delle piante a cui tengo molto, o un tappeto che non vuoi assolutamente che il robot pulisca, posso impostarla, posso ovviamente rimpicciolirla, ingrandirla e personalizzarla a piacimento. Oppure possiamo impostare un muro virtuale. Per esempio, qui c'è il mio studio, io non voglio che il robot entri nel mio studio, anzi, che non voglio che vada a pulire questa zona qui, io posso impostare un muro virtuale, che il robot considererà come suo limite. Un'altra funzione, secondo me, molto molto utile. Ritorniamo indietro, ovviamente, dopodiché abbiamo la possibilità di decidere e impostare la presenza di mobili. Qui, per esempio, lui ha riconosciuto tranquillamente il tavolo da pranzo e il divano, vedete, anzi, la presenza della poltrona, mentre il divano è questo qui. Possiamo andare a aggiungere tavoli e sedie, armadie, elettrodomestici e tanto altro ancora. Infine, possiamo impostare anche la sequenza della pulizia, quindi quale stanza pulire e in quale ordine. In questo caso, io inizio dalla sala da pranzo e termino con il corridoio antistante al bagno, però è completamente personalizzabile. E possiamo anche impostare la presenza delle tende, di eventuali tende, di modo che il robot non vada a incastrarsi se le incontra. Infine, abbiamo l'opzione per gestire l'eventuale mappatura multipiano. La andiamo ad abilitare andando a cliccare questa opzione. Vi ricordo però che per sfruttare poi tutte le caratteristiche del robot sarebbe necessario spostare l'intera base. Andiamo però sulle impostazioni avanzate perché cliccando sui tre pallini in alto abbiamo tutta una serie di voci che vediamo adesso. Cronologia della pulizia ovviamente ci dice il totale dei metri quadrati puliti, la durata complessiva e quanti cicli di pulizia abbiamo effettuato. Pulizia programmata ci permette invece di automatizzare insomma una pulizia. Quindi clicchiamo su più e noi possiamo decidere sia le stanze da pulire o se pulire tutto, personalizzare la singola stanza, le scorciatoie e tanto altro ancora, l'orario di inizio e quante volte ripeterlo o durante il giorno o durante la settimana. Quindi possiamo davvero automatizzare poi gli intervalli di pulizia, cicli di pulizia per esempio impostandolo cinque minuti dopo che noi usciamo di casa se abbiamo una routine ben definita, cosa che io non ho. Andiamo qui a vedere le impostazioni dei tappeti. Allora ne abbiamo tantissime perché c'è l'aspirazione con distacco del mocio. Questo perché? Perché il Dreamy è in grado di staccare i moci lasciandoli alla base in modo da evitare che questi tocchino i tappeti. Può essere utile in caso di presenza di tappeti particolarmente pregiati. Dopodiché abbiamo la modalità aspirazione e lavaggio, non si può aspirare in modalità lavaggio e non si può lavare in modalità aspirazione. Questo fa sì che il robot non aspiri il tappeto quando è in modalità lavaggio e non lo lavi quando è in modalità di aspirazione. Dopodiché possiamo decidere di evitare del tutto i tappeti, ignorare e adatto per gli ambienti privi di tappeti. Quindi va a disabilitare questa funzione nel momento in cui noi non abbiamo neanche un tappeto in casa. La funzione che ho io, che qualche tappeto ce l'ho, è quella di aspirazione con distacco del mocio. Dopodiché possiamo andare a decidere come il robot deve comportarsi quando sale sul tappeto. Quindi possiamo decidere che prima vada a pulire i tappeti, quindi lui cosa fa? Noi avviamo la pulizia, lui distacca i moci, va a pulire i tappeti, dopodiché pulisce tutto il resto. Possiamo abilitare il potenziamento dei tappeti, quindi lui al riconoscimento del tappeto grazie al sensore a ultrasuoni va ad aumentare automaticamente la potenza e possiamo anche impostare la pulizia intensiva della mochette se siamo dotati di mochette o comunque di zone ricoperte da mochette. È una cosa che per esempio può tornare utile negli Stati Uniti perché utilizzano tutti la mochette. Abbiamo poi le varie impostazioni per la pulizia dei pavimenti, tra cui la modalità di prevenzione delle collisioni. Lui sfrutta tutti i sensori di cui è dotato per riconoscere gli ostacoli ed evitare di utilizzare il paraurti anteriore. Abbiamo poi la pulizia automatica che ci permette, quando abbiamo attivato la modalità Clean Genius, su quello che vi dicevo prima, di permettere al robot di capire che potenza di aspirazione utilizzare e quante volte passare durante la pulizia. Quindi possiamo anche abilitarla o disabilitarla. Dopodiché abbiamo il distacco all'installazione automatica dei tamponi del mochette. Ovviamente anche questa è una funzione che possiamo abilitare o disabilitare. È la pulizia in direzione del pavimento in cui lui riconosce in che direzione va il pavimento e la segue in modo da evitare di lasciare eventuali detriti. Dopodiché abbiamo anche delle funzioni beta, come per esempio il riconoscimento delle macchie. Questo fa sì che il robot riconosca eventuali macchie, per esempio di un liquido versato che si è seccato e vada a insistere maggiormente durante la pulizia. Dopodiché impostazioni Mop Extend. Allora, Side Reach significa che quando lui va a riconoscere un qualsiasi ostacolo verticale estende il mochio, quindi gambe di tavolo, gambe di sedie, pareti verticali e chi più ne ha più ne metta. Dopodiché possiamo abilitare l'intelligenza artificiale e poi decidere queste due casistiche. Quindi estensione del mochio per la pulizia degli spazi vuoti. In questo caso il robot riesce a fare meno passaggi perché avendo un'area coperta dai mochi un po' più elevata riesce a pulire la stessa area con meno passaggi oppure pulizia intensiva delle gambe dei mobili. Questo significa che il robot estende il mochio e va a concentrarsi proprio in quella zona per rimuovere eventuale sporco. Dopodiché possiamo anche impostare la frequenza di estensione della spazzola laterale e del mochio durante le operazioni di pulizia anche perché abbiamo qui la spazzolina laterale che si estende per coprire una maggiore superficie. Dopodiché abbiamo le impostazioni della base, quindi l'aggiunta automatica del detersivo, opzione da attivare quando voi utilizzate appunto la basetta del serbatoio del detersivo. Il lavaggio automatico che permette alla base di capire se i mochi sono sporchi e quindi di lavarli e quanto lavarli e le impostazioni di lavaggio. Vedete io ho impostato il lavaggio intelligente nel mochio ma abbiamo diverse opzioni quindi possiamo impostare tre modalità di lavaggio quindi è la quantità di acqua che lui utilizza e dopodiché la temperatura dell'acqua. È vero che lava fino a 70 gradi centigradi ma possiamo impostare per esempio che sia leggermente tiepido, delicato o normale quindi con acqua fredda. Tutto ciò dipende ovviamente dalle nostre abitudini e dalle nostre superfici. Dopodiché abbiamo il secondo lavaggio automatico, io l'ho spento però possiamo eventualmente attivarlo per una maggiore pulizia. Possiamo impostare anche il tempo di asciugatura quindi tra le 2 e le 4 ore. Io ho impostato le 3 ore ovviamente a seconda dell'intervallo consumerà più o meno energia e dopodiché possiamo impostare anche l'autosvuotamento automatico. Possiamo anche disattivarlo, in questo caso il serbatoio dello sporco all'interno dell'aspirapolvere robot dovrà essere svuotato in maniera manuale, altrimenti possiamo farlo standard, quindi cassa di medie dimensioni, alta frequenza quindi lui va a svuotarlo anche più volte durante lo stesso ciclo di pulizia o bassa frequenza quindi lui fa per esempio 2-3 pulizie, quando il serbatoio dell'aspirapolvere è pieno lo va a svuotare. Ed è la funzione che io vi consiglio di fare. Dopodiché abbiamo anche la possibilità, vedete un piccolo tutorial, per pulire la base di lavaggio in modo da mantenere sempre la stessa efficienza. Qui abbiamo il menu che ci permette di andare a personalizzare l'evitamento degli ostacoli. Io in particolare voglio farvi vedere questa voce qui perché c'è il riconoscimento degli animali domestici. Lui fa particolare attenzione perché come potete vedere va a evitare anche rifiuti liquidi o solidi quindi in caso di animali domestici potrebbe essere una funzione parecchio utile. Poi possiamo abilitare o disabilitare l'acquisizione delle immagini al riconoscimento dell'ostacolo ovviamente dovremmo accettare la policy e abilitare o disabilitare la luce di riempimento che è il led frontale che illumina l'area antistante al robot quando c'è scarsità di luce o zone poco illuminate. Poi possiamo impostare sia la lingua della voce dell'assistente, della guida vocale quando impostiamo le varie funzioni, sia il volume. Possiamo anche disattivarlo. Poi possiamo impostare ovviamente tutte le impostazioni per quanto riguarda la fotocamera in tempo reale nonché disattivarla se teniamo in particolar modo alla nostra privacy e su più funzioni abbiamo il collegamento alla schermata iniziale, la modalità non disturbare in cui il robot non farà assolutamente nessun rumore e nessuna operazione neanche in automatico. possiamo abilitare questa che è una funzione simpatica per chi ha magari un'utenza domestica elettrica bioraria quindi consuma, spende di meno nelle ore notturne e quindi la ricarica e la gestione del robot sarà effettuata appunto nelle ore notturne e quindi spenderà di meno. Abilitare la protezione ai bambini, notifiche, controllo remoto, gestione wifi e manutenzione del dispositivo in cui abbiamo tutta una serie di impostazioni per andare a verificare che il dispositivo funzioni correttamente. Poi abbiamo tempo residuo che non è altro che la durata e l'utilizzo delle varie parti del robot quindi lui ci dice per esempio qui c'è il filtro del 96% e appena arriva allo 0% ci arriva una notifica che ci ricorda di cambiare il filtro. Abbiamo poi la guida in tutte le sfaccettature se abbiamo un dubbio sul funzionamento tutte le informazioni sul dispositivo quindi possiamo anche rinominarlo suggerimenti, condivisione dispositivo che vi permette appunto di condividere il dispositivo con un'altra persona e eventualmente l'aggiornamento firmware vi consiglio di abilitare gli aggiornamenti automatici così una volta che il robot è configurato e connesso al wifi voi non dovete pensare più a nulla e poi c'è la possibilità di eliminare il dispositivo se vi stufate, volete cambiare, lo vendete, lo regalate e non lo avete più con voi. Questa è la disamina completa di questa applicazione come potete vedere è davvero molto molto complessa perché ci sono una miriade di funzioni, spero di avervi illustrato bene o male la maggior parte delle funzioni in maniera corretta se avete ulteriori dubbi e domande fatele qui sotto nei commenti e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!